Nelle puntate precedenti Puntata 1 Hai visto che fine di merda che ha fatto? C'era il sipario di pirla Ma come era vestito? Non avevate niente di meglio da fare che svegliarmi nel cuore della notte Ispettore, la scientifica non ha voluto far avvicinare nessuno se non lei Ah sì? Sì Allora, vediamo un po' Ore 19.45, la vittima presenta delle grosse chimosi sul collo Ora del decesso più o meno 4 ore e 35 minuti fa La vittima è stata uccida Uccisa da un colpo di scena ben assestato Perché io sono tuo padre E poi lasciata negare nella vasca Avete detto che nessuno di voi ha toccato o si è avvicinato alla vittima prima della mia venuta? Certo Ispettore E questo? Rudy I tuoi boccoli ti hanno tradito Sapevo del tuo amore per me E sapevo che Dino non ti andava genio perché mi faceva la corte Ma non ti credevo capace di arrivare a tanto Fottuto culattone Omero sei un genio Ma come hai fatto? Ma ti faccio sempre Omero Perché io lo amo E il mio amore lo amo Portatelo via No No lasciatemi Non sono stato io Maledetti No Maledetti Lasciatemi stare Blah 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 Monica butta la pasta No 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 Grazie a tutti.